alex e che c'è guarda qui cosa ha comprato che hai comprato oh oh ma sono le calze della bevana esatto ho comprato una calza di giurassic world il dominio e una della marvel che dici le apriamo oh sì 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 ma quindi facciamo un unboxing no 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 alex niente unboxing semplicemente apriamo queste calze e vediamo cosa c'è dentro è un unboxing non è un unboxing voglio solo aprire le calze quindi vuoi fare un unboxing ma non è un unboxing dai allora allora vado a cercare unboxing sul traduttore allora vediamo un po google traduttore e unboxing in inglese significa spacchiettamento e cosa dobbiamo fare oggi dobbiamo spacchiettare queste calze quindi un unboxing no 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 ragazzi non dategli retta non è un unboxing va bene allora intitoliamo questo video non è un unboxing però intanto è un unboxing ma arex mi spieghi la differenza tra fare un unboxing e aprire semplicemente qualcosa beh un unboxing significa aprire qualcosa mentre si filma ah e vabbè ma noi non stiamo filmando ah no e quella che cos'è è una videocamera ed è accesa si accesa e allora stiamo filmando quindi questo è un unboxing vabbè ma non lo pubblicheremo questo video e che cosa ne stiamo aprendo a fare queste calze perché voglio vedere cosa c'è dentro e lo vedremo però poi lo pubblichiamo no non lo pubblichiamo si lo pubblichiamo no non lo pubblichiamo si perché questo è un unboxing allora va bene lo pubblichiamo però smettila con questa storia dell'unboxing non è un unboxing ok non è un unboxing bene dai procediamo procediamo allora ragazzi iniziamo con i buoni propositi per questo 2023 il mio primo proposito è trovare un carnotauro nella calza di jurassic world e venom nella calza della marvel e se non trovassi nessuno dei due ma arrabbio no dai non ti arrabbiare per favore iniziamo dalla calza di jurassic world innanzitutto ammiriamo la bellezza della copertina cioè ragazzi qua cioè è stupenda questo tirannosauro è favoloso però ci ha dato parecchio filo da torcere durante il torneo ma no non è lo stesso tirannosauro quello che compare nel film è femmina sì ma compare anche un maschietto non ti ricordi la famigliola felice di tirannosauri sì ma il tirannosauro che abbiamo affrontato noi non compare fidati vabbè come vuoi dai dai apriamo questa calza subito vediamo un po cosa abbiamo qui dai 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 allora ragazzi abbiamo una notizia positiva e una negativa partiamo da quella negativa non abbiamo trovato il carnotauro no non ti arrabbiare bastatore quella positiva è che non sono arrabbiato oh wow ma che succede evento secolare non sono arrabbiato perché abbiamo trovato comunque delle cose molto interessanti cioè 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 che abbiamo trovato abbiamo trovato il marsupio di giurassic world ma è bellissimo cioè ragazzi guardate quanti dinosauri possiamo intravedere i mega raptor il dilophosauro il piro raptor il t-rex blu è la figlia di blu vabbè blu c'è sempre non mi stupisco infatti è un po' la mascotta di giurassic world uno stiracosaurus con un corno molto grande ma vabbè qui c'è anche l'ala di un pteranodonte lo stigmoloc l'anchilosaurus il terezinosaurus il mosasaurus il barionix e abbiamo anche il carnotaurus e vai we are the champions my friends arex che c'è basta smettila taci zitto vabbè stavo festeggiando questo traguardo non c'è nessun traguardo non lo vedi è un'immagine piccolissima e quindi sempre che hai trovato il carnotauro io volevo il giocattolo di un carnotauro e vabbè adesso chiedi troppo no che non chiedo troppo è da una vita che voglio trovare questo carnotauro non l'ho mai trovato dai lo troverai prima o poi magari l'anno prossimo l'anno prossimo ancora sì aspettiamo altri 50 anni comunque questa stuccia è proprio bello è più marsupio vabbè il maspunzio il maspurs il maspursio insomma capito poi abbiamo trovato degli stickers bellissimi e abbiamo il difolofolosauro il dilophosaurus e il difolofolosaurus il quescaccolatus il quetzalcoatlus arex il tesinininosaurus il terizinosaurus il parasascrofolo parasaurolopo il piscioraptor piroraptor arex piroraptor poi blu chiamiamolo velociraptor vabbè ma è blu sì si chiama blu però è un velociraptor non stiamo chiamando dinosauri con i nomi propri ma con il nome della specie va bene allora è blu il velociraptor ma perché dobbiamo specificare chi è blu mi sta pure antipatica quella poi abbiamo il giganotosaurus il tirannosaurus il mega raptor e il dimetrodonte belli 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 tutti belli però non c'è il carnotauro vabbè bastatore hai trovato l'immagine di un carnotauro sopra al maspursio che cosa vuoi di più marsupio e al maspursio e poi no non mi accontento di una mini immagine sul marsupio poi abbiamo trovato la borraccia la focaccia dov'è la focaccia la borraccia arex non la focaccia ah ah ok scusa non avevo capito ed è bellissima ragazzi guardate qui guardate che roba oh vabbè ma è stupendissima e infine abbiamo trovato lui il moros intrepidus wow ma è bellissimo anche se è un po' diverso da come appare nel film tu dici si nel film ha un piumaggio molto più liscio e anche la forma del corpo sembra diversa e poi i denti sono più piccoli guarda è vero questo invece ha dei dentoni enormi poi ha queste due creste più mate sulla testa che lo fanno quasi sembrare un dilofosauro però non ci lamentiamo il giocattolo è comunque molto bello ma adesso passiamo alla calza della marvel si vediamo un po' qui e abbiamo trovato tor e devo dire che è veramente brutto ma dai ma sto tor ma che dici e oh a me non piace che faccia è questa dai a me non dispiace tanto ma non gli somiglia per niente ma perché non è quello dei film è quello dei fumetti ah già giusto infatti non ha nemmeno la barba però boh a me non piace ok boh ok sono gusti quindi sciò vediamo che altro abbiamo trovato oh questo sì che è interessante abbiamo trovato lo sparadischi di capitano america oh e come funziona come funziona come funziona vediamo subito allora questo va messo così ma sei sicuro che va usato in questo modo? ne sono sicurissimo arex aspetta e vedrai boh ok poi prendiamo anche il dischietto eh il culetto non lasciami stare il culetto il dischietto arex il dischietto ah ok e lo mettiamo qui e ora andiamo a premere questo pulsante qui no vabbè bellissimo wow bravo arex sei proprio un'arma letale natale ma non è passato natale e qui abbiamo anche la pistola di spider man andiamo a vedere come funziona allora le pallottole vanno inserite qua dentro così e poi va premuto il grilletto vediamo un po' che succede miriamo un bersaglio a caso e che fai bastatore? e pem! aia! bastatore ma che fai? ma sei impazzito! scusa ma è stato troppo divertente no non è divertente per niente ragazzi non fatelo a casa uffa quanto ti lamenti e qui invece abbiamo trovato un non so cosa di iron man andiamo a vedere ah è una piccola statuina ragazzi e è bellissima! si è vero è fatta molto 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 bene beh ragazzi che dire questo 2023 è iniziato proprio bene infatti abbiamo trovato cose molto interessanti già anche se quel torre è brutto e non abbiamo trovato il carnotauro e nemmeno venom vabbè dai fa niente abbiamo trovato comunque delle cose molto molto belle guarda quel tuo iron man già e anche la borraccia di Jurassic World è bellissima però parlare del Morse Intrepidus vero vero quindi posso ritenermi soddisfatto eh sì e adesso che facciamo? ah adesso giochiamo a spararci le cose a spararci? no 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 che fai? inizi a scappare cosa? ah no 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 aiuto mi difendo mi difendo e pem fregato era scarica aia oh ma sei impazzito così impari a sfidarmi ma la mia pistola era scarica ah e vabbè ma prima mi hai sparato la pallina in faccia vabbè ma è stato divertente e ora te ne sparo altre tre no 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 Arex fermo fermo beccati questo no 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 aspetta aspetta no 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 no